La Virtus Basket italiano Irpino riaccende i motori in vista della prossima stagione. La società del Tricolle riparte dalla riconferma di coach Antonio Bellizzi in panchina. Il tecnico avelinese nella passata stagione ha guidato Moretti e compagni ad un passo dalla promozione, ragion per cui il club arianese punta nuovamente su di lui. Bellizzi sarà affiancato da Antonio Serluca, confermato anche lui. Nei prossimi giorni il club annuncerà la composizione del roster. Sì, sono contentissimo chiaramente della riconferma, sono davvero entusiasta di questo nuovo anno che sta per iniziare. Purtroppo l'anno scorso non è finito come ci aspettavamo, come volevamo. Perché poi le aspettative in realtà si sono create strada facendo e quest'anno invece abbiamo il dovere di riconfermare quanto di buono fatto e provare a migliorarlo. Da cosa si parte il roster che sta venendo fuori? Partiamo dalle certezze avute la scorsa stagione. È stato confermato lo zoccolo duro delle giocatrici che hanno ben fatto lo scorso anno e sono stati fatti degli importanti innesti in grado di rendere la squadra ancora più competitiva. Quando si comincia ufficialmente? Iniziamo il 14 e il 15 di ottobre, questa è ancora da definire, con la Coppa di Serie B che quest'anno vedrà coinvolte tutte e 16 le squadre partecipanti al campionato. Si farà questo primo turno di semifinale, la domenica successiva la finale e tutte le vincenti, perché sono state divise in quattro gironi, le vincenti andranno a scontrarsi le Final Four in una data ancora da definire e il 29 di ottobre iniziamo ufficialmente con il campionato, con la prima trasferta a Trani. Ecco Antonio, da uomo di basket appassionato, un cognome importante, in città in questo momento si vede un dualismo. La tua opinione è in merito? Quando si fa palla a canestro io sono sempre contento, quindi ci auguriamo chiaramente che questo dualismo possa finire e convoiare in un'unica realtà che possa puntare magari ai vertici del campionato più importante.